Salve, lui è Pino e io sono Corrado Maria Daclon, il presidente del Comitato Italiano Carta della Terra. Ho avuto il privilegio nel 1992, anno del Summit per la Terra promosso dalle Nazioni Unite a Rio de Janeiro, di far parte del Governing Council del Programma Ambiente delle Nazioni Unite, dell'UNEP, a Nairobi. Lì abbiamo preparato la conferenza di Rio de Janeiro, dove abbiamo discusso a lungo i principi della Carta della Terra. La Carta della Terra è stata paragonata per importanza e profondità alla Dichiarazione per i diritti dell'uomo e ispira l'attività del nostro Comitato in Italia, in particolare per quanto riguarda l'educazione dei giovani. Negli anni abbiamo raggiunto molte migliaia di studenti in tutte le scuole italiane, portandoli a conoscenza di quelli che sono i principi della Carta della Terra. Oggi, molti anni dopo la sua approvazione, la Carta della Terra indica ancora, anche qui in Italia, la sua grande attualità e rappresenta una sfida per quelle che sono le nuove generazioni e generalmente i cittadini che possono e debbono cogliere, nell'obiettivo di una diversa e migliore governance globale, i mutamenti sempre più dinamici del nostro pianeta e della nostra società. Per non essere più soltanto uomini che sperano, ma costruttori di speranza.